Questo è il mio paese, dove ritrovo i miei affetti e i miei ricordi. Questa è casa mia, la casa della mia famiglia. Qui sono le mie radici. Abbiamo scritto un programma ricco, completo, articolato, che tocca tutti i punti della vita dell'Abruzzo. Dall'economia, al lavoro, al turismo, la cultura, lo sport, l'ambiente, la sanità. Però questo programma non è solo il frutto dello studio, delle competenze, delle riflessioni fatte. È soprattutto il frutto di un grande sogno, quello di un Abruzzo senza confini. L'Abruzzo che sogno è senza confini, dove costa e zone interne. Città e piccoli borghi collaborano insieme per rilanciare l'intero Abruzzo. Il mio sogno è che l'Abruzzo diventi la terra ideale dove chiunque vorrebbe vivere e lavorare. Hai capito? Per questo voglio fare il presidente della regione. Ma quello di Cenacato non sia Abruzzo. Ci pregate, pure tutti ci metti. Le buone idee non hanno confini. Il 10 febbraio, alle elezioni regionali, scegli Marsilio presidente.